Salmo 23 Certamente il Salmo 23 è il Salmo più conosciuto, ma non credo che sia sempre il Salmo più compreso. Infatti il pericolo di quei brani, di storie bibliche che pensiamo di conoscere benissimo, come magari Astro e Noè o Davide Contro e Golia, sono dei brani così conosciuti che quando magari li leggiamo, rischiamo di non vedere i dettagli e magari non far più caso o attenzione a quello che veramente dice il Salmo. Ho visto spesso che molti che dicevano che il Salmo 23 era il loro Salmo preferito lo interpretavano però in un modo non corretto e quando gli ho fatto notare alcune cose, ho detto alcune cose che dirò anche oggi, sono rimasti alquanto perplessi. Vi do il mio benvenuto cari fratelli e cari sorelle a questo nuovo studio biblico dal titolo una rivisitazione dell'interpretazione del Salmo 23. Iniziamo proprio da leggere completamente il Salmo 23 prima di dire quessiasi cosa. Allora, leggiamo Salmo 23, Salmo di Davide. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in vertigianti pascoli, mi guida lungo le acche calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentire giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci a tavola, sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi d'olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, bene e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. E io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. In questo Salmo così meraviglioso ci sono messaggi di ogni genere. Consolazione, disciplina, riprensione, rivelazione, direzione, benedizione e speranza, che vedremo proprio fra un po'. Il pastore è una figura molto comune, riconosciuta, molto conosciuta nel mondo medio orientale, un po' meno conosciuta da noi. Quindi dobbiamo fare qualche riflessione in più per capire questa figura del pastore. Nell'Antico Testamento spesso Dio stesso si è presentato come pastore, come in Isaia 40, Ezechiele 34 e tanti altri passaggi. E in questo passaggio del Salmo 23 il Signore è il mio pastore. È interessante, guardando la Bibbia, il Salmo 22, 23 e 24 insieme formano una trilogia ben collegata. Infatti nel Salmo 22 vediamo che Gesù ha dato la sua vita per noi, nel Salmo 23 vediamo che Gesù si prende cura delle sue pecore e nel Salmo 24 vediamo che Gesù si rivela come il re di gloria. Allora, nel Salmo 22 ci parla del passato, di ieri. Infatti nel Salmo 22 è un Salmo profetico che ci parla della morte sulla croce di Gesù. E questo naturalmente appartiene alla storia. Il Salmo 23 invece ci parla del presente, dell'oggi. Il Salmo 23 ci parla di come oggi Dio si prende cura naturalmente delle sue pecore. Il Salmo 24 invece ci parla del futuro, di domani. Il Salmo 24 infatti è anche un Salmo profetico che ci parla di Gesù come il re di gloria in cielo. E' importante il Salmo 22 perché ci parla di come siamo stati salvati nel passato. E' importante il Salmo 24 perché ci parla di dove andremo nel futuro, grazie naturalmente alla salvezza di Gesù Cristo. Però oggi vogliamo concentrarci sul presente, sull'oggi, sul Salmo 23, dove ci parla della nostra relazione personale con Gesù. E vogliamo meditare questo Salmo. Ma prima di iniziare a meditare questo Salmo voglio fare una domanda. che ognuno di noi può rispondere nella propria mente. Qual è la parola più importante del Salmo 23? Per comprendere il vero significato di questo Salmo. Quindi qual è la parola più importante del Salmo 23? Per riuscire a comprendere il significato profondo del Salmo 23. Tra tutte le parole che troviamo nel Salmo 23, la parola più importante per comprendere al meglio questo Salmo è la parola mio. Il Signore è il mio pastore. Quindi fra tutte le parole la più importante è mio. Mio infatti ci rivela una relazione personale. Quindi non dice nostro, dice mio. Quindi una relazione personale che abbiamo col nostro Signore. dire il Signore è il mio pastore oltre a rivelare una relazione personale con Lui è anche una dichiarazione di pendenza. E quando diciamo il Signore è il mio pastore stiamo dichiarando che noi siamo Suoi. Siamo le sue pecore. Il Salmo 23 infatti è valido solo per le sue pecore. Quella piccola parola mio, il Signore è il mio pastore, ci indica se questo Salmo è valido per me oppure no. Infatti se io non sono una pecora del Signore, allora tutto il Salmo 23 non ha nulla a che fare con me. Però se io sono una sua pecora, allora il Salmo 23 ha tutto a che fare con me. A questo punto la domanda davvero importante che ognuno di noi si deve fare in questo momento è proprio il Signore è il mio pastore? Sono io una pecora di Gesù? Rispondere a questa domanda è fondamentale innanzitutto per capire se il Salmo 23 ha qualcosa da dire a me oppure no, ma anche per capire tutto il Salmo 23. Tante persone sia nelle chiese che fuori le chiese si dichiarano cristiani, si dichiarano credenti, si dichiarano tra virgolette pecore del Signore, ma non basta dichiararsi. Infatti una vera pecore del Signore fa delle determinate cose e noi non possiamo definirci pecore del Signore se poi non facciamo quello che fa ogni vera pecora del Signore. Quindi è importante per noi capire se siamo veramente delle pecore del Signore. E per aiutarci a rispondere a questa domanda possiamo leggere nel Vangelo di Giovanni, in Giovanni capitolo 10, versetto 14, 27, dove Gesù si presenta come il buon pastore. E dice così, Io sono il buon pastore e conosco le mie, le mie pecore naturalmente, e le mie conoscono me. Versetto 27 Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Le pecore del Signore, quindi, lo conoscono, ascoltano la sua voce e lo seguono. Le prevenzioni del Salmo 23, quindi, sono tue solo se sei una pecora del Signore che fa queste determinate cose. Essere una pecora del Signore non significa solo aver fatto una volta nella vita, una preghiera per ricevere la salvezza, ma è qualcosa di molto più. Essere una pecora del Signore significa conoscere Gesù, ascoltarlo quotidianamente e seguirlo giorno dopo giorno nella nostra vita. Quindi non possiamo magari pretendere le prevenzioni del Salmo 23 se poi noi non conosciamo Gesù, se noi non leggiamo quotidianamente la Bibbia per conoscere Gesù. Perché? Perché Gesù ci parla principalmente attraverso le pagine della nostra Bibbia. Ascoltare la voce del pastore significa conoscere la parola di Dio e per conoscerla, naturalmente, dobbiamo leggerla. Ci sono invece tante persone che si dichiarano seguaci di Gesù, pecora di Gesù, però non aprono mai la Bibbia. Non possiamo quindi pretendere per l'edizione del Salmo 23 se noi non leggiamo la Bibbia, ma non possiamo pretendere di essere dei pecora del Signore se magari leggiamo la Bibbia, poi Gesù ci dice che fanno una cosa e poi noi ne facciamo un'altra. Quindi non siamo una pecora del Signore perché le pecora del Signore lo conoscono, ascoltano la sua voce e lo seguono. Seguire Gesù significa che oltre ad ascoltarlo anche agire in base a quello che ci dice mediante la Bibbia quotidianamente e continuamente. Le benzioni del Salmo 23 quindi sono riservate solo per le vere pecole di Gesù che lo conoscono, lo ascoltano e lo seguono. Quindi a questo punto dobbiamo rifarci la domanda per capire se il Salmo 23 è per noi oppure no. Il Signore è il mio pastore? Sono io una pecora di Gesù? Conosco il mio buon pastore attraverso la Bibbia ed una relazione personale con lui? Ascolto la sua voce quotidianamente mediante la lettura, lo studio e la meditazione della Bibbia? Seguo ciò che Gesù mi dice tramite la Bibbia quotidianamente e puntivamente? Oppure tante volte faccio di testamento? rispondere sinceramente a queste domande come il sì significa allora che le benzioni del Salmo 23 sono per noi. Però è essenziale capire questo che il Salmo 23 riguarda le pecole di Gesù e per essere una pecora del Signore dobbiamo conoscerlo, ascoltare la sua voce e naturalmente seguirli. Salmo 23, versetto 1 dice il Signore è il mio pastore nulla mi manca. Solitamente questo primo versetto viene interpretato dicendo non sarò mai nel bisogno, avrò sempre tutto ciò di cui ho bisogno e non mi mancherà mai nulla. Però essendo sinceri dobbiamo ammettere che pur essendo pecco il Signore a volte ci manca o abbiamo bisogno di alcune cose. C'è chi ha problemi finanziari, c'è chi ha problemi di salute, c'è chi soffre di solitudine e allora tutte queste cose sembra quasi che questo versetto non funzioni più di tanto. A volte ho visto addirittura cristiani stare davvero male perché seppur essendo veramente pecole di Gesù che lo ascoltano e lo seguono fedelmente avere dei bisogni e interpretando questo versetto dicendo che chi è una pecora del Signore non ha bisogno di nulla, non ha più nessun problema, dubitare tante volte avere paura di magari di non essere una pecora del Signore Gesù. Però quando leggiamo questo versetto dobbiamo capire innanzitutto che quando fu scritto originariamente, come tra l'altro il resto della scrittura, non c'erano punti, non c'erano virgole, non c'erano punti e virgole o doppi punti. Questi, come anche i versetti e i capitoli, furono messi in seguito nelle traduzioni naturalmente per facilitare la lettura. Ma a volte potrebbero anche gannarci, quindi dobbiamo leggere sempre con attenzione la scrittura. Probabilmente questo versetto, per capire bene il suo senso, lo dobbiamo provare a leggere senza doppi punti o virgole. Quindi, il Signore è mio pastore e nulla mi manca. Qual è quindi allora la giusta interpretazione? Quando il Signore è il mio pastore ho tutto quello di cui ho bisogno. Quando il Signore è il mio pastore allora ho tutto quello di cui ho veramente bisogno per questa vita e per l'altabilità. Quando credo in Gesù ho tutto e pienamente. Ricevo lo Spirito Santo e non ho bisogno di altre cose o seconde esperienze. Perché la Bibbia dice che quando crediamo abbiamo ogni benedizione spirituale e abbiamo in Lui tutto pienamente. Quindi, il Signore è mio pastore nulla mi manca. Quindi non ho bisogno di cercare chissà cosa. E tante volte invece si pensa che dobbiamo cercare altro. Quindi sì, abbiamo il Signore come nostro Signore Salvatore però abbiamo bisogno di altre cose. In realtà, qui il Salmo 23 ci sta dicendo il Signore è mio pastore nulla mi manca. Riprendiamo nuovamente il brano del buon pastore di Giovanni X per vedere che non ci manca nulla per questa vita e per l'eternità. Giovanni capitolo 10 leggiamo versetti 3-4 poi 9-11 14-27 a 29 e dice così a Lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce ed Egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Io sono la porta se uno entra per me sarà salvato entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare ammazzare distruggere io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore e il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie e le mie conoscono me e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del padre. Quindi qui vediamo che il Signore è il mio pastore e nulla mi manca. Infatti che cosa ha fatto Gesù? Innanzitutto chiama. Gesù ci ha chiamato alla salvezza e al discipolato. Conduce. Gesù ci conduce mediante il suo esempio che troviamo le scritture. Quindi Gesù è il nostro punto di riferimento. Lui va davanti a noi e noi seguiamo le sue orme. Non ci spinge ma ci conduce dandoci naturalmente una direzione e uno scopo nella nostra vita. Sarà salvato quindi parla di salvezza. che vedendo in Gesù veniamo salvati dal giudizio e dal peccato. E poi parla di pastura. Gesù ci nutre mediante la sua parola ma siamo noi ancora una volta che dobbiamo leggerla. Ma è lui che l'ha messa a nostra disposizione affinché noi non moriamo di fame spirituale. Gesù quindi ci dà notimentro e risorse per fare tutto quello che ci chiede di fare che non è altro che ascoltare la sua voce mediante la lettura della Bibbia e seguirlo naturalmente quotidianamente. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù ci ha dato una vita piena piena di speranza ed un nuovo scopo nella nostra vita non più per vivacchiare come tante volte si dice ma per vivere con la B maiuscola. In Gesù quindi possiamo essere soddisfatti e grati di quello che abbiamo in voi. E poi naturalmente lui ha dato la sua vita per acquistare la nostra salvezza. Lui ci conosce Gesù ha una conoscenza individuale di ognuno di noi conosce il nostro passato presente futuro sa tutto di noi come leggiamo anche nel Salmo 139 quindi lui conosce ogni nostra debolezza e mediante la sua parola vuole proprio rafforciarci proprio nelle nostre debolezze e poi c'è nessuno le rapirà dalla mia mano dalla mano di Gesù ma neanche dalla mano del Padre quindi c'è una doppia protezione in Gesù e nella sua salvezza possiamo essere più che sicuri e tante volte invece c'è questa paura di magari perdere salvezza o altro in realtà qui ci sta dicendo il Signore il mio pastore nulla mi manca cioè lui ha fatto tutto per la nostra salvezza quando Gesù è davvero il nostro pastore non ci manca nulla che riguardi la vita e l'eternità infatti abbiamo visto che in Gesù abbiamo la chiamata la salvezza il discepolato abbiamo un esempio da seguire abbiamo la salvezza dal giudizio e dal peccato il nutrimento e le risorse mediante naturalmente la lettura della Bibbia abbiamo una vita abbondante il Signore è il mio pastore nulla mi manca e chi capisce il significato di questa frase impara la soddisfazione e naturalmente la gratitudine sono soddisfatto di quello che ho la preoccupazione per domani è uno dei peggiori nemici proprio della cristiana tante volte magari ci troviamo in situazioni difficili e siamo preoccupati ma guardiamo cosa disse o scrisse Paolo dalla prigionia romana e cristiani di Filippi Filippese capitolo 4 versetti da 11 a 13 dice così non lo dico perché mi trovi nei bisogni perché io ho imparato ad accontentarti dello stato in cui mi trovo so vivere nella povertà e anche nell'abbondanza in tutto e per tutto ho imparato ad essere staziato e ad avere fame essere in abbondanza e nell'indigenza io posso ogni cosa in colui il segreto della vita di Paolo si trova proprio nella sua capacità di essere soddisfatto in Cristo in qualsiasi circostanza povertà abbondanza essere saziato fame in Cristo possiamo in qualsiasi situazione avere la nostra speranza sapendo che Gesù ha ci ha dato tutto quello che riguarda la vita e naturalmente l'eternità quindi in Cristo non viviamo più sotto le circostanze della vita ma possiamo vivere al di sopra le circostanze della vita essa ci lascia tutte queste preoccupazioni la pecora naturalmente che cosa fa la pecora non sta in ansia per il Pasquale di domani non si preoccupa nemmeno di guardare il bollettino meteorologico che cosa fa la pecora lascia tutte queste preoccupazioni il suo pastore e a lei basta ascoltare seguire la voce del suo pastore giorno dopo giorno ed essere una pecora del Signore Gesù significa questo mettere tutte le nostre preoccupazioni nelle sue mani e ascoltare la sua voce giorno dopo giorno Salmo 23 versetto 2 dice egli mi fa riposare in verdeggianti Pasquale non so perché ma quando leggiamo questo pasto oppure tante volte quando l'ho sentito predicare la nostra mente immagina delle pecore che scorazzano in un pascolo rigoglioso ma il Salmo non dice che queste pecore pascolano in verdeggianti pascoli dice che il pastore le fa riposare un'altra versione le fa giacere cioè le forza a riposo quindi non sono delle pecore che vanno in giro sono delle pecore che stanno riposando in verdeggianti pascoli il pastore tante volte ci ordina riposate e noi chiediamo non ora signore sono tanto occupato che non ho proprio tempo per coricare devo fare così tante cose e qui dobbiamo stare attenti tante volte all'attivismo religioso a volte possiamo essere così impegnati a fare fare delle cose per Dio che poi non prendiamo il tempo per riposare e stare con il signore tanti che sono degli attivisti religiosi fanno delle cose per Dio per mettere magari a volte anche a posto la propria coscienza per dire ok abbiamo fatto la nostra evangelizzazione annuale ok ora siamo a posto fino al prossimo anno ci sono persone poi che fanno delle cose per Dio come evangelizzare studi biblici conferenze per non fare le altre cose che Dio gli chiede veramente come magari perdonare qualcuno passare del tempo con la propria famiglia o non mentire ci sono molti che vedono tante volte Dio come un datore di lavoro ma non hanno una relazione con lui e quindi tante volte per queste persone è difficile riposare perché quando ci fermiamo dobbiamo pensare quando ci fermiamo riflettiamo e tante persone invece non vogliono mai fermarsi perché quando non si ferma non pensano e invece Gesù vuole che noi ci fermiamo per pensare per riflettere per vedere se le cose nella nostra vita stanno veramente bene oppure no perché tante volte con l'attivismo religioso possono dire sono andato al culto sono andato di qua sono a posto il Signore ma com'è la nostra relazione con Gesù la Bibbia stessa ci parla del giorno di riposo non come qualcosa per fare qualcosa per Dio ma stare con Dio in contemplazione Gesù stesso dopo la missione dei discepoli a un certo punto dice ok ora venite in disparte con me state con me per avere una relazione personale con i suoi discepoli e anche noi dobbiamo imparare a riposare qualche volta Dio si trova costretto a fermarci se noi non ci comportiamo a pecore quindi non ci fermiamo quando lui ci dice di fermarci ma ci comportiamo con molta carità capre perché Dio ci dice di fermarci no no devo fare devo fare devo fare qualche volta Dio si trova costretto a fermarci Salmo 119 71 dice è stato un bene per me l'afflizione subita perché imparassi i tuoi statuti a volte siamo così concentrati sul nostro fare 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 che non abbiamo tempo o non riusciamo nemmeno ad ascoltare la voce del Signore perché siamo così impegnati a fare delle cose per il Signore ma non ad ascoltare il Signore su che cosa dobbiamo fare realmente e quando succede questo a un credente che non ascolta la voce di Dio va magari avanti per terra intorno alla sua strada Dio a volte si trova costretto a intervenire per fermare quella persona e tante volte sarà purtroppo doloroso qui il salmista dice è stato per me un bene l'afflizione cioè la sofferenza subita affinché naturalmente imparassi statuti ricordiamo che il Salmo 23 è per le pecore di Gesù per i suoi infatti il Signore correcce quelli che sono suoi e questo trattamento lo riserva per i veri cristiani quante volte ho sentito dire che per poter guardare in alto uno si deve veder costretto tante volte a letto sdraiato sulla propria schiena e ci dice qualcosa di simile anche in Giobbe Giobbe 33 su egli mi fa giacere egli mi fa riposare e perfino ho letto di un invalido può diventare una benedizione se questa persona sa approfittare ma la domanda è questa perché arrivare a questi provvedimenti tragici non è meglio riposare quando lui ci chiede di farlo e invece noi tante volte invece di comportarci da pecore ci comprendiamo un po' da capri perché continuiamo a fare e fare senza fermarci a contemplare però le pecore del Signore egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli per le pecore il riposo è fondamentale perché rumina mentre riposa la pecore non mangia ha già mangiato essa rumina questo è il loro modo naturale di cerire siccome ruminano devono trovare un posto dove riposare e ruminare cioè rimangiare quello che hanno già mangiato e se non lo fanno non riescono a digerire bene e non riescono a prendere tutti i benefici dal cibo che hanno preso quindi qui troviamo l'importanza della meditazione per noi come cristiani l'importanza della meditazione è la parola di Dio e come si medita la parola di Dio riposando cioè ruminando e ruminare per i cristiani infatti è il meditare sulla parola di Dio infatti quando troviamo nella scrittura frasi del genere su quella legge medita giorno e notte lì la parola meditare significa proprio ruminare e meditare significa pensare e ripensare a quello che abbiamo letto precedentemente nella parola di Dio come la pepra mangia l'erba la butta giù poi va a riposare in verdecianti pascoli e mentre riposa tira su ciò che ha già mangiato e poi lo ributta giù e lo fa diverse volte per ricevere tutti i nutrimenti da quel suo pasto così come cristiani quando studiamo un passaggio biblico riflettiamo sul suo significato e tra virgolette lo buttiamo giù poi durante la giornata dobbiamo trovare dei momenti in cui ci fermiamo in cui riposiamo proprio per ripensare al passaggio biblico letto e rifletterci sopra nuovamente per buttarlo giù e poi tirarlo di nuovo su per buttarlo di nuovo giù per ricevere il massimo da quel passaggio biblico però per fare questo dobbiamo tante volte fermarci invece tante volte siamo così impegnati a fare determinate cose possono essere anche cose buone però Dio vuole che noi tante volte ci fermiamo dobbiamo lasciare da parte le solicitazioni della vita lo stress la vita caotica e frenetta per riflettere meditare pensare e pensare su quello che già abbiamo studiato dalla parola Dio e il pastore deve anche fare attenzione a non portare le pecore dove ci sono dei insetti fastidiosi infatti se le pecore sono disturbate da mosche o altri insetti non riescono a riposare e non riescono a ruminare bene e anche noi come pecore del signore dobbiamo trovare un posto per meditare dove non c'è distrazione quindi dove non ci sono le nostre mosche i nostri insetti che i nostri mosche i nostri insetti oggi che non ci lasciano meditare si chiamano telefonini televisione tante volte altre persone che ci possono distrarre quindi dobbiamo imparare a riposare nel signore anche Gesù passava del tempo da solo in preghiera Gesù obbligò c'è proprio questa parola obbligò i suoi discepoli dopo una missione a passare del tempo in riposo con lui quindi come rispondiamo quando Dio ci dice fermati un attimo dobbiamo andare di qua e di là perché se no la nostra mente va in tilt perché non vogliamo pensare a determinate cose quindi proprio quello è il momento in cui dobbiamo fermarci e riflettere invece di essere pecore a volte purtroppo ci comportiamo come delle capre quindi dobbiamo trovare del tempo da dedicare alla meditazione prima naturalmente che Dio ci obblighi con maniere forti e tante volte dolorose quindi Egli mi fa riposare in verteggianti pascoli Egli mi guida in verteggianti pascoli Egli mi fa riposare in verteggianti pascoli Mi guida lungo le acque calme Altre versioni dice Mi guida lungo le acque chete Le acque devono essere calme chete come la versione più antica perché spesso le pecore si spaventano dal rumore forte delle acque che scorrono e iniziano a scappare di qua e di là Anche in questo caso la nostra mente o attraverso predicazioni sentite corre a un'immagine che il testo non ci descrive infatti pensiamo subito a dei quadri dove queste pecore vengono qui rappresentate che si abbeverono pacificamente presso un tranquillo ruscello La logica umana dice se Dio ci guida lungo le acque chete non sarebbe forse lo scopo di abbeverarci? A cos'altro servirebbe l'acqua? Maltesto non dice che ci guida alle acque per bere ma che dice che ci guida lungo le acque calme ci guida lungo le acque calme significa ci fa camminare vicino alle acque calme pensate a questo le acque calme formano uno specchio e quando stiamo accanto ad esse possiamo vedere noi stessi non è semplice è esattamente quello che il Salmo ci sta dicendo l'essere umano ha bisogno di vedere se stesso attraverso naturalmente uno specchio uno specchio d'acqua in questo caso nella Bibbia che cosa rappresenta le acque non da bere ma le acque che purificano nella Bibbia che cosa rappresenta lo specchio tante volte naturalmente la risposta è la parola di Dio la parola di Dio è acqua ed è anche uno specchio possiamo vedere versetti come il Salmo 119.9 oppure come in Giacomo 1.22.25 ci dà questa immagine la parola di Dio e il Signore vuole guidarci nel nostro cammino lungo le acque calme della parola di Dio vuole che continuamente mentre camminiamo in questo percorso qui sulla terra ci possiamo specchiare continuamente nella parola di Dio per vedere se siamo sporchi se siamo a posto oppure altro per fare ciò noi dobbiamo anche in questo caso non essere capre ma pecore che ascoltano la sua voce quindi significa che nel nostro cammino quotidiano dobbiamo specchiarci leggere la parola di Dio per vedere come siamo e per poter godere naturalmente la benizione del Salmo 23 e anche in questo caso vediamo siamo una pecore del Signore cioè ci specchiamo quotidianamente con la parola di Dio cioè la leggiamo la meditiamo se ne lo stiamo facendo allora non stiamo vivendo le benzioni del Salmo 23 a volte quando si legge questo Salmo si vede solo la parte del pastore del Signore ma per appropriarci di queste benzioni dobbiamo fare noi la nostra parte ascoltando naturalmente la sua voce perché perché se non lo facciamo non possiamo pretendere di godere delle benzioni del Salmo 23 per la nostra vita nella Bibbia troviamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno nella Bibbia c'è forza per il debole coraggio per chi cade saggezza per chi è confuso felicità per lo scoraggiato appagamento per l'angustiato riposo per l'oppresso guarigione per il malato amore per chi è solo speranza per chi è disperato e vita per chi è morto ogni vero bisogno nella nostra vita viene soddisfatto in Gesù mediante la sua parola e poi va avanti il salmista egli mi ristora l'anima dopo essere stati obbligati a coricarci quando magari non avremmo voluto dopo essere stati guidati alle acque calme che riflettono noi stessi come Dio ci vede a questo punto tante volte abbiamo bisogno di implorare il ristoro dell'anima perché quando vediamo noi stessi come Dio ci vede molte volte abbiamo bisogno del suo ristoro perché vediamo che non siamo esattamente come noi pensavamo di essere e quindi abbiamo bisogno di ristoro la parola ristoro significa riparare aggiustare restaurare quindi abbiamo bisogno di aggiustare la nostra anima egli mi ristora l'anima cioè Dio può fare questo Gesù può ristorare la nostra anima restaurarla aggiustarla l'essere umano è composto da tre parti spirito anima e corpo il Signore è pronto a riparare aggiustare restaurare la nostra anima ma che cos'è l'anima l'anima è composta dalla nostra mente dalle nostre emozioni e dalla nostra volontà quindi l'anima che Gesù vuole restaurare è formata la mente emozioni e volontà spesso quando si parla della guarigione dell'anima e in particolare abbiamo fatto un lungo percorso di studi biblici proprio sull'argomento la guarigione dell'anima dove spieghiamo proprio come è formata l'anima come possiamo ricevere la guarigione dell'anima quando questo video sarà caricato su Youtube vi lascerò la playlist proprio della guarigione dell'anima per approfondire questo argomento se non l'avete visto comunque stiamo dicendo che spesso quando si parla della guarigione dell'anima si pensa solo alla guarigione delle emozioni dei sentimenti ma egli mi ristora l'anima e l'anima non è composta solo da emozioni ma è composta anche dalla mente e dalla volontà quindi quando egli mi ristora l'anima agisce sulle mie emozioni sì ma anche sulla mia mente e anche sulla volontà quindi quando il Signore ci guarisce l'anima e noi naturalmente glielo lasciamo fare lui non opererà solo sulle emozioni ma anche sulla nostra mente e sulla nostra volontà trasformando la nostra mente con pensieri nuovi e agendo sulla nostra volontà affinché possiamo agire nel modo più giusto quindi il Signore non solo vuole guarire le nostre emozioni ferite ma vuole restaurare la nostra anima completamente cambiando naturalmente la nostra vita il Signore vuole quindi curare le nostre emozioni ferite guidare la nostra volontà e rimettere a fuoco il nostro modo di pensare attenzione non è possibile restaurarci da soli solo il Signore Gesù può fare questo le pecore non possono rialzarsi senza aiuto sapete quando una pecore cade la vede che si gira e rigira la sua schiena con le gambe in aria che si agita un po' come una tartaruga una tartaruga che non riesce a rialzarsi da sola ha bisogno del pastore ha bisogno che il pastore sollevi la pecora e la rimetta in piede se invece rimane lì senza che il pastore l'aiuti questa pecora può anche morire può essere anche attaccata ad un animale feroce perché in quel momento super indifesa chissà dove saremo ognuno di noi se il nostro buon pastore non fosse intervenuto tante volte nella nostra vita proprio per rialzarsi egli mi ristora l'acqua mi conduce per sentire giustizia per amore del suo nome quindi dopo avermi mostrato come sono mediante le acque dopo avermi ristorato col suo perdono ora il pastore mi vuole condurre per sentire giustizia nel mondo è facile perdersi ma Dio ci vuole condurre nelle sue vie quelle che sono più giuste per noi le pecore non hanno proprio alcun senso dell'orientamento e quando non seguono fedelmente il pastore si perdono facilmente si trovano spesso nei guai infatti le pecore non hanno dei buoni occhi non vedono oltre 20-30 metri e quindi possono andare proprio in direzioni sbagliate dove proprio c'è il pericolo e a causa di questa loro assoluta mancanza del senso di orientamento tante volte sono considerati degli animali stupidi perché? perché tante volte non vedono tanto in là però sono abituati tante volte a seguire la massa vi racconto una storia realmente accaduta una volta in Turchia circa 1500 pecore incustodite cadero da un dirupo mentre i pastori stavano facendo colazione quindi le prime 400 pecore morirono cadendo da dirupo mentre le restanti 1100 pecore si salvarono perché? perché le prime 400 avevano praticamente creato un cuscino di pecore per attutire le cadute delle altre quindi le prime 400 sono morte le altre 1100 si sono salvate però anche loro sono cadute ma cos'era successo? semplicemente una pecora è caduta da un dirupo e tutte le altre le hanno seguite i consapevoli di cosa c'era davanti e tante volte anche noi possiamo fare così seguire la massa andare in una direzione sbagliata le pecore come anche noi abbiamo bisogno di una buona guida di un buon pastore e grazie a Dio ce l'abbiamo però anche in questo caso dobbiamo comportarci da pecore seguendolo e non da capre volendo tante volte fare di testa nostra prendere i nostri sentieri tante volte pensiamo noi di sapere da soli ciò che è meglio per noi ma non è così infatti la pecora non ha nessun senso dell'orientamento abbiamo bisogno quindi seguire il buon pastore per non trovarci sulle strade sbagliate perduti oppure addirittura giù da un dirupo per aver seguito magari altre persone ciò che manca alla pecora in direzione in orientamento lo può compensare con un'ubbidienza fedeltà e riconoscimento della voce del pastore le pecore seguono il pastore avendo la certezza che naturalmente lui va sul sentiero giusto il Signore vuole condurci in posti che lui considera i migliori per noi e lui sa cosa è meglio per noi vuole che spesso cambiamo anche direzione alla nostra vita quando stiamo andando in una direzione poi tutto un tratto dobbiamo cambiare direzione perché perché non è più quella la strada giusta la strada giusta va dove va il pastore Dio ha sempre voluto guidare il suo popolo nell'antico testamento in particolare in esodo i numeri vediamo che Dio mandò una colonna di fuoco di notte e una nuvola di giorno per guidare per 40 anni gli israeliti nel deserto cosa devono fare? dovevano seguire la guida di Dio mi conduce per sentire giustizia non mi spinge ma mi conduce e anche qui vediamo c'è un rapporto personale è un rapporto personale dobbiamo guardarci dall'errore di leggere egli ci conduce perché il Salmo dice egli mi conduce vuole condurmi personalmente vuole condurmi per sentire giustizia cioè quei sentieri moralmente giusti diversi da quelli su cui magari tutti gli altri camminano sappiamo che il cristianesimo non è qualcosa di stato è qualcosa di cammino il cristiano il vero cristiano è in cammino perenni nel cristianesimo infatti è impossibile stare fermo infatti o si va avanti nel cammino oppure si va indietro rimanere fermo sembra lo stesso punto impossibile nel cammino cristiano quindi se non stai andando avanti e pensi magari di essere fermo ah io sono fermo qui in realtà senza che te ne accorgi pian piano stai andando indietro del resto invece se non stiamo andando indietro stiamo andando avanti quindi è importante capire che come cristiano non possono dire ah io sono fermo qui spiritualmente parlando no o stai andando avanti o stai andando indietro se sei fermo il signore va avanti e quindi rimani indietro e poi dice mi conduce per sentire giustizia per amore del suo nome Dio vuole proteggere la sua reputazione Dio vuole solo il meglio per noi per amore di chi lui è i sentieri di giustizia talvolta sono sassosi a volte sono deserti a volte sono stretti a volte sono angusti non si può dire che sia una via facile però si può dire che è la via giusta e tante volte questi sentieri di giustizia per amore del suo nome dove ci portano? al versetto seguente versetto 4 quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte io non temerei alcun male perché tu sei con me quindi tante volte questi sentieri di giustizia passano anche attraverso le valle dell'ombra della morte in Israele molte volte i pastori devono passare delle gole profonde tra una montagna e l'altra mettere le pecore in fila indiana per portarle da una pastura all'altra quelle gole potevano essere assai pericolose perché lì c'erano i naguati briganti oppure c'erano le bestie feroci pronte a gettarsi sulle pecore indefese praticamente da Gerusalemme al mar morto c'è un sentiero strettissimo e pericoloso attraverso tutta la cantina moncuosa il sentiero è astro e una pecora potrebbe facilmente cadere e morire precipitando è un viaggio davvero proibitivo e c'è veramente paura a fare però le pecore fanno questo viaggio perché perché il loro pastore è con loro quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte io non temerei alcun male perché perché tu sei con me quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte ombre chi ha paura di un'ombra preferisce essere attraversato dall'ombra di un camion o da un camion stesso certamente dall'ombra di un camion perché perché l'ombra di un camion non ci fa male non ci fa niente un camion sì ma la sua ombra assolutamente no e per il credente la morte la cosa più terribile che possa accadere è semplicemente un'ombra su youtube abbiamo fatto un altro studio dal titolo morire e andare direttamente dal signore dove parlo di cosa accade un credente quando muore e gli spiego proprio che la morte per un cristiano è solo un'ombra anche di questo studio vi lascerò il link quando sarà caricato su youtube questo studio quindi morire e andare direttamente dal signore lì spiego un po' che la morte per un cristiano è solo un'ombra è un'ombra non fa male i credenti possono a volte trovarsi a camminare nel mezzo dell'ombra della morte periodi difficili stressanti ma possono non temere ricordandosi che Gesù è con loro anche in questi momenti c'è una bellissima poesia che parla proprio di questo forse l'avete sentita varie volte e dice così ho sognato che camminavo e arriva al mare col signore e rivedevo sullo schermo il cielo tutti i giorni la mia vita passata e per ogni giorno trascorso appariva sulla sabbia due orme le mie e quelle del signore ma in alcuni tratti ho visto una sola orma proprio nei giorni più difficili della mia vita allora ho detto signore io ho scelto di vivere con te e tu mi avevi promesso che saresti stato sempre con me perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti più difficili e lui mi ha risposto figliolo tu lo sai che io ti amo e non ti ho abbandonato mai i giorni nei quali c'è soltanto un orma sulla sabbia sono proprio quelli in cui ti ho portato in braccio Gesù non ci dice camminate con me e non avrete nessun problema ma dice che lui sarà con noi in qualsiasi circostanza della vita e che lui sa dove conduci e come conduci al meglio e poi va avanti il salmo il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza sapete cosa stiamo dicendo quando magari recitiamo il salmo 23 a un certo punto diciamo il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza cioè è qualcosa che io voglio ma che cos'è il bastone e che cos'è la verga allora il bastone per il pastore un bastone era un pezzo di legno una mazza lunga un po' meno di un metro era abbastanza pesante era come una clava con la quale il pastore proteggeva le pecore dai nemici che come nella storia di Davide possono essere leoni possono essere orsi ma a volte anche lupi per le pecore e lupi nel Nuovo Testamento troviamo che rappresentano spesso i falsi profeti e i falsi insegnamenti non in linea naturalmente con la scrittura Gesù vuole proteggerci anche da questi perché alla fine ci faranno del male staremo male ci feriranno perché perché quando noi seguiamo i falsi profeti e i falsi insegnamenti alla fine ci troveremo ci troveremo male e Gesù vuole proteggerci anche da questo le pecore sono indifese ed hanno bisogno a protezione del pastore ma per godere della protezione del pastore anche in questo caso bisogna essere pecore e non capre e stare vicino al pastore dove lui naturalmente può difendere e non andare in giro di testa propria facendo le cose di testa propria per poi piangere lamentarci che il Signore non si è preso cura di noi e tante volte anche noi siamo un po' così e vediamo che ci sono cose che non vanno in questa predicazione ci sono falsi profeti falsi insegnamenti però va bene e poi alla fine stiamo male perché? perché questi insegnamenti ci faranno del male invece dobbiamo essere protetti come possiamo essere protetti? ancora una volta attraverso la scrittura ci ha lasciato il Signore e la Bibbia proprio affinché noi conosciamo la verità e ci allontaniamo da naturalmente dei falsi insegnanti di falsi insegnamenti quindi se vogliamo godere la protezione del buon pastore dobbiamo imparare a stare vicino al buon pastore e questo è il bastone la verga il tuo pastore e la tua verga ti danno sicurezza ma cosa significa quando diciamo la verga del Signore mi sta dando sicurezza allora il secondo pezzo di legno che ha sempre con sé un pastore era una verga che serviva non per proteggere i pecore dai nemici ma per proteggere i pecore da se stesse la verga era un ramo più lungo e sottile naturalmente il bastone che il pastore piegava quando era ancora fresco e incurvava da un lato dando la forma di un gancio come vedete nell'immagine la verga non era un'arma era piuttosto uno strumento usato per prevenire per aiutare qualche pecora poteva magari inciampare scivolare fermandosi su qualche scorgenza e allora il pastore faceva passare il gancio sopra il petropecora e per riportarlo naturalmente sul sentiero giusto a volte addirittura capitava che una pecora iniziava ad allontanarsi dalla giusta strada e cosa faceva il pastore con la verga lo prendeva dai collo e li lo portava in careggiata certamente gli faceva del male ma era necessario serviva per tirare a sé una pecora che si stava allontanando e che stava andando in una direzione pericolosa spesso abbiamo anche noi bisogno della riprensione del Signore dobbiamo proteggerli da noi stessi quando nella Bibbia leggiamo la verga o la riprensione del Signore pensiamo subito a qualcosa di brutto qualcosa che ci fa male di proposito anche quando la Bibbia parla di averga di prendere i bambini se l'immagine è fare fisicamente del male a qualcuno ma non è questa l'idea biblica della verga della riprensione certamente a volte può fare male come la pecora presa per il collo con la verga fa male prima che cadano in diruppo però un mezzo di prevenzione per evitare il peggio se il pastore non avesse preso al volo questa pecora magari sarebbe caduto in diruppo quindi è meglio un po' di male piuttosto che proprio la morte meglio una zampa rotta che morti prima Corrinzi capitolo 11 versetto 82 dice ma quando siamo giudicati siamo corretti del Signore per non essere condannati col mondo qui cosa sta dicendo a questo Paolo dice a volte siamo corretti del Signore non è qualcosa di bello però è meglio essere corretti del Signore piuttosto che essere condannati col mondo quindi si fa male però ti evita un male molto ma molto peggiore e ancora Ebrei capitolo 12 versetto 11 dice è vero che qualunque correzione sul momento non sembra riccare gioia ma tristezza il seguito tuttavia produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa quindi anche questo dicendo è vero al primo momento la correzione non ti fa saltare di gioia diventi magari a volte triste però poi ti rendi conto che questa correzione ti ha salvato la vita meglio una zampa rotta che morti sai perché quando il pastore trova la pecora perduta se la mette sulle spalle a volte la mette sulle spalle perché il pastore gli ha appena spezzato la zampa una pecora che si comporta male che scappa che va a mangiare dove non deve mangiare a volte incoraggia anche altre pecore a seguirla e il pastore quando la trova dopo che è andata dove non doveva andare e ha fatto ciò che non doveva fare per un paio di volte quindi non la prima volta ma diverse volte la prende e col bastone a volte le rompe la zampetta è qualcosa di brutto? Sì è costretto però a farlo per portarla all'ovile affinché possa capire che quella direzione è sbagliata affinché anche le altre pecore non possano seguire il cattivo esempio di questa pecora perché? perché non solo questa pecora sta facendo male a se stessa non solo sta rischiando la sua vita ma stava anche danneggiando delle altre la rottura della zampa ricordava alla pecora l'azione una volta per tutte estremo rimedio un esempio biblico di questo che abbiamo appena detto è Giacobbe Giacobbe lui in tutta la sua vita quando aveva dei problemi che cosa faceva? Giacobbe scappava invece di affrontare i problemi scappava scappò dal fratello Esaudo dopo aver rubato la sua genitura scappò dal suo cero l'amore scappava sempre poi un giorno si trovò a lottare con un angelo che gli toccò l'anca e lui rimase zoppo per tutta la vita ora Giacobbe non poteva più scappare come ha sempre fatto ma avrebbe dovuto affrontare nel modo giusto le varie situazioni Giacobbe rimase zoppo per tutta la vita però ha compreso un'importante lezione che scappare non risolveva nulla ma per capire questa lezione il Signore ha dovuto lasciarlo zoppo e Giacobbe stesso riconobbe tutto questo quando disse al faraone gli anni della mia vita alla nomade sono 130 i miei anni sono stati pochi e travagliati allora dice sono 130 e questi anni sono stati pochi e travagliati pochi e travagliati perché trascorsi male fuggendo di qua e di là fino a quando non ha più potuto fare questo perché il Signore gli ha fatto capire che non doveva fuggire ma affrontare le situazioni meglio una zampa rotta che morti il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza quindi stiamo dicendo quando recitiamo il Salmo 23 stiamo dicendo che la repressione del Signore mi dà sicurezza qualcosa che mi piace di cui ho veramente bisogno quindi in sostanza il bastone protegge le pecore da tutti i nemici esterni mentre la verga le protegge da se stessi sono sicuro perché Dio mi protegge dai nemici e se io mi allontano da lui lui mi viene a prendere con la sua verga magari a volte fa un po' male però meglio un po' di dolore che morire essere sbranato da dei lupi o chissà cosa il buon pastore ama le sue pecore e se ne prende cura se è necessario le punisce per amore e per il loro bene anche se all'inizio non si riesce a capire tutto questo a volte quando siamo stati corretti al Signore in quel momento eravamo tristi dicevamo al Signore perché il Signore mi hai fatto questo ma a volte dopo anni riusciamo a capire che anche se quella situazione ci ha fatto del male era la cosa migliore per la nostra vita ma a volte a volte questa consapevolezza arriva quando dopo tanti anni forse oggi tu ti trovi una di queste situazioni che dici Signore perché mi hai fatto questo non capisco questa situazione la mia vita stava andando in una direzione e poi a un tratto tutto finito tutto chiuso perché e tante volte mi hanno detto ci conduce per sentire giustizia e a volte in quel sentiero poi ci fa cambiare direzione e noi diciamo perché no sono certo che se sei una peccola del Signore capirai che tutto ciò che ti è successo è per il tuo bene non lo capirai oggi ma fra qualche anno vedrai il prefetto piano di Dio e ringrazierai tu stesso Dio che ha messo fine a una determinata situazione della tua vita prima che essa ti potesse abbattere completamente e tante volte ho sentito tante testimonianze di credenti che hanno detto grazie Signore perché hai chiuso quella porta perché perché mi avrebbe portato lontano da te però non avviene subito avviene dopo del tempo versetto 5 qui cambia un po' l'immagine non più pecore ma esseri umani per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici è meraviglioso che possiamo camminare con lui e sapere che il Signore sta preparando qualcosa di speciale per noi e dove ci apparete la mensa davanti ai nostri nemici Dio sa che abbiamo dei nemici sa che abbiamo delle difficoltà conosce esattamente la nostra situazione forse oggi stiamo soffrendo a causa di qualcuno come Paolo soffriva a causa di persone che sparlavano di lui e cercavano in ogni modo di fargli del male e bloccare la sua vita il suo ministero forse qualcuno ha sparlato di te ha parlato male ha detto le bugie delle calugnie sul tuo conto tutte queste cose naturalmente ti hanno ferito ti hanno fatto del male e forse hanno creato anche dei problemi nella tua vita nel tuo ministero pensi che Dio non tiene conto di tutto questo? pensi che lui sia veramente indifferente a tutto questo? qua il Salmo ci dice di no purtroppo sono cose della vita che accadono in particolare a chi vuole seguire il Signore a volte ci sono persone invidiose gelose che vogliono magari il privato che cercano di mettere il bastone fra le ruote ma noi dobbiamo continuare ad andare avanti questo è accaduto ad Adile l'autore del Salmo corressao che tra l'invito lo perseguitò e cercò di ucciderlo per anni ma la stessa cosa è accaduta ai profeti a Gesù stesso ai discepoli a Paolo la cosa più interessante è che le pagiore calugne arrivavano da chi? da persone religiose persone che bazzicano nelle chiese che a volte magari sono anche delle persone che hanno un certo ruolo nella chiesa come accadeva anche a Paolo Dio ci onorerà un giorno di fronte a tutti i nostri nemici quindi andiamo avanti senza scoraggiarci perché Dio stesso ci onorerà un giorno di fronte a tutti i nostri nemici dimostrando la nostra ragione e la loro colpevolezza e dovranno ammettere tutto ciò accadrà o qui sulla terra o certamente davanti al tribunale di Cristo dove ci saranno tutti i credenti quindi permetto invadisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici Dio sale in nostre situazioni e si prende cura cospargi di olio il mio capo l'unzione della Bibbia ha diverse immagini la più conosciuta è l'unzione sacra un uomo o un oggetto un tuo appartiene a Dio in un modo speciale per un scopo specifico ad esempio un re gli oggetti del tabernacolo i sacerdoti quindi cospargi di olio il mio capo può significare che lui ci mette in una posizione speciale per uno scopo speciale però ha anche un secondo significato questa immagine un trattamento medico cospargi di olio il mio capo di trattamento medico farite percosse in Luca 10 abbiamo la parabola di un samaritano che quando trovò quell'uomo picchiato e farito le briganti si prese cura di lui e come prima cosa fasciò le sue piaghe versandovi sopra olio e vino in Giacomo 5 14 invece abbiamo quel versetto dove dice che se qualcuno è malato chiami gli anziani a chiesa affinché essi preghino per lui e versino dell'olio sulle sue ferite come un trattamento medico naturalmente di allora quando le pecore vengono ferite o morse non sanno prendersi cura di se stessi altri animali leccano una ferita affinché non guarisce ma non le pecore le pecore hanno bisogno di un pastore che si prenda cura delle loro ferite infatti un buon pastore all'entrata dell'ovire controlla tutte le sue pecore per vedere se qualcuna per caso durante la giornata si è ferita contro una roccia fra i rovi o le spine e si trova delle ferite il pastore applica dell'olio per ammorbidirli e disinfettare molte volte i pastori mettevano sulle zampe della pecore ferita un unguento e fasciavano la ferita e si prendevano a cura della ferita costantemente fino alla completa guarigione il signore il nostro buon pastore si vuole prendere cura delle nostre ferite fino alla completa guarigione anche questo è qualcosa di meraviglioso del salmo 23 e ancora la mia coppa tra bocca per noi il calice la coppa o meglio la coppa coppa è simbolo di vittoria sportiva qui ci parla di una vittoria ma non una vittoria normale ma una vittoria schiacciante la coppa di cui parla Davide è una coppa piena di vino che veniva adattata all'ospite d'onore quando lo si invitava a cena e quando la coppa veniva riempita fino all'orlo era un conto ma quando il padrone di casa faceva traboccare il vino della coppa questo significava tu sei il benvenuto qui questa è casa tua sono contentissimo di averti qui e qui ci sta parlando di un'accoglienza davvero speciale per le pecore del Signore che le ascoltano e lo seguono vediamo subito adesso vedremo l'ultimo versetto del Salmo però qua ci sta dicendo una cosa molto bella la mia coppa trabocca sono contento di averti qui questa è casa tua versetto sei certo bene e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni allora questa non è una vana speranza ma una certezza non lascia il dubbio certo bene e bontà eccetera eccetera solo se siamo vere per quel Signore che davvero scontra la voce del buon pastore e lo seguono tutte queste benvenzioni e promesse contenute nel Salmo 23 sono per noi la certezza delle promesse che riguardano la vita qui sulla terra e la certezza che riguarda l'eternità futura bene e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita ma che cosa è il bene credo che a volte molte volte abbiamo confuso il bene con il piacere per un bambino ad esempio il piacere è avere il telefonino in mano 24 ore su 24 quello è il piacere del bambino ma non è il bene il bene del bambino è non avere un telefonino 24 ore su 24 naturalmente un bambino non è in grado di giudicare ciò che è buono e ciò che è nocivo per questo è compito ai genitori prendere la decisione e dare e fare il bene per il bambino lasciate un adolescente in valia di se stesso e vedrete che magari starà su tutta la notte non andrà a scuola passerà la vita davanti a tv al cellulare al playstation e non mangerà altro che bibite e panini e la ragione di tutto questo è ben chiara egli non sa esattamente ciò che è il bene ma ciò che gli piace ma ciò che gli piace tante volte è nocivo e anche in questo caso sono i genitori che lo devono guidare nella stessa maniera noi come figli di Dio spesso confondiamo il piacere con il bene ci sono cose che ci piacciono che non ci fanno del bene ci sono cose che non ci piacciono che ci fanno del bene come abbiamo già letto prima il Salmo 119 versetto 71 dice è stato un bene per me l'afflizione subita perché imparassi i tuoi statuti è stato un bene qualcosa di buono che ho sofferto perché perché ho imparato i tuoi statuti naturalmente la sofferenza non è qualcosa di piacevole però in questo caso il Salmista è stato un bene come aveva detto prima a volte non comprendiamo perché alcune cose ci accadono nella nostra vita e non le vediamo come un bene ma tante volte come un ostacolo come un problema ma un domani quando avremo un quadro più completo della nostra vita potremo vedere che alcune cose che ci sono capitate che non erano proprio niente piacevoli in realtà alla fine dei conti furono un bene per la nostra vita spirituale anche se oggi diciamo perché signore non lo capisco volevo questa cosa mi piaceva questa cosa e tu l'hai fermata non lo capisco però magari un giorno non lo capiremo che quello era un bene affinché come dice il Salmista imparassi il tuo stato anche in questo caso ci dobbiamo fidare di Dio fu un bene per Mosè fa scolare peco in un deserto per 40 anni dopo essere fuggito dall'Egitto fu un bene per Davide lottare con i leoni e con gli orsi fu un bene per Giovanni essere esiliato nell'eser del Patmos per quella visione che abbiamo dell'apocalista fu un bene per Paolo la sua spina nella carne per cui Gesù ha detto a mia cazza ti basta fu un bene per Giacobbe che abbiamo visto prima a zoppicare per il resto della sua vita la bontà o benignità anche qui riguarda la grazia che non meritavamo nella nostra vita quindi bene e bontà ma il Signore ci ha voluto concedere bontà quante volte Dio ci ha perdonato durante la nostra vita quante volte Dio è stato il Dio delle seconde opportunità a volte anche terze e quarte per la nostra vita Egli ci ha dato un appuntamento per essere con noi tutto il giorno per ogni giorno e quindi dobbiamo capire che se abbiamo il Signore nella nostra vita se siamo pecore del Signore Gesù quindi che ascoltano la sua voce lo conoscono lo seguono gli ubbidiscono allora certo bene e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita quindi smettiamo tante volte di predire disastri per la nostra vita e cominciamo ogni giorno con fiducia a credere che bene e bontà ci accompagneranno tutti i giorni della nostra vita anche se magari al primo momento non comprenderemo questo bene che tante volte non è qualcosa di piacevole e poi e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni lunghi giorni riguardano l'eternità delle pecore del Signore alla fine soltanto la nostra certezza nella realtà dell'eternità ci può dare la forza per oggi perché la nostra vita non è solo qui su questa terra ma la nostra vera Patria è su nel cielo su questa terra siamo solo i passaggi prima Corinzi capito 15 versetto 19 Paolo dice se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto noi siamo più miseri fra tutti gli uomini se veramente la nostra vita finisce qui e non c'è un'eternità allora siamo i più miseri di questa terra e come affrontare le difficoltà nella nostra vita se non abbiamo una prospettiva eterna Romani capitolo 8 versetto 18 18 dice infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo quindi se io ho lo sguardo rivolto alle cose eterne anche le sofferenze che passiamo tutti noi se le paragoniamo con la gloria che vedremo un giorno in cielo non sono nemmeno paragonabili e quindi affronteremo molto diverso la nostra vita viviamo quindi la nostra vita con le sue difficoltà e responsabilità però in funzione naturalmente dell'eternità questo salmo ha descritto un cammino il cammino del cristiano della vera pecore di Gesù proprio dall'inizio alla fine perché c'è un percorso leggiamo questo salmo in quest'ottica vedendo il cammino il signore il mio pastore nulla mi manca salvezza abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno egli mi fa riposare in verticianti pascoli mi guida lungo le acque calde egli mi ristora l'arma mi conduce per sentire giustizia per amore il suo nome quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte io non temerei male perché tu sei con me il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza quindi tutto un percorso per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici cosfargi di olio il mio capo la mia coppa tra bocca certo beni bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò la casa del Signore per lunghi giorni quindi questo salmo ha descritto il cammino della vera pecca di Gesù dall'inizio la conversione tutto il percorso e alla fine l'eternità la cosa più bella in tutto questo salmo è che non siamo soli in questo cammino ma il Signore è con noi in ogni fase del nostro cammino infatti è interessante vedere che in questo salmo Dio si rivela con tanti nomi che troviamo nell'Antico Testamento vediamoli velocemente insieme il Signore è il mio pastore Yahweh Rahha cioè Dio Yahweh è il mio pastore nulla mi manca Yahweh Shireh lui vede e provvede tutto ciò che riguarda la nostra salvezza Genesi 22 13 14 dice che significa lui è la nostra giustizia Ceremia 23 6 quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte io non temerei alcun male perché tu sei con me Yahweh Shammah lui è qua oppure lui è là Ezechiele 48 35 per dire Dio è con noi il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza per me imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici Yahweh Sabot Signore degli eserciti tu prepari la tavola sotto gli occhi dei miei nemici Osea 12 6 cospargi di olio il mio capo la mia coppa tra bocca Yahweh mi si Dio è la nostra bandiera la nostra vittoria Esodo 17 e 15 certo bene e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni Yahweh Makaldeshen o Yahweh Kadesh lui ci santifica Esodo 31 13 quindi è bello vedere che in tutto il Salmo Dio si rivela in molti modi e questo si rivela in questi modi per le sue pecore il Salmo 23 vale per me come abbiamo visto fra tutte le parole che troviamo nel Salmo 23 la parola più importante per comprendere al meglio questo Salmo è la parola mia il Signore è il mio pastore quella piccola parola mio il Signore è il mio pastore ci indica proprio se questo Salmo è valido per me oppure no tante persone sia nelle chiese che al di fuori delle chiese spesso si dichiara cristiani credenti pecore del Signore ma questo non basta non basta dichiararsi infatti se io non sono una pecore del Signore allora tutto il Salmo 23 non ha nulla a che fare con me essere una pecore del Signore non significa quindi solo aver fatto una volta nella propria vita una preghiera per ricevere la salvezza e poi fare tutto di testa propria ma essere una pecore del Signore è molto più la pecore del Signore significa conoscere Gesù ascoltarlo quotidianamente seguirlo ogni giorno della vita quindi come avevo detto prima una vera pecore del Signore ascolta quotidianamente Gesù come? leggendo la sua parola gli ubbidisce quindi quando legge la parola non è che dice ah io faccio quello di testa mia perché quella non è una pecore quella è una capra quindi non possiamo pretendere le benzioni del Salmo 23 se poi noi non leggiamo quotidianamente la vita per conoscere Gesù ed ascoltare la sua voce che ci arriva naturalmente principalmente tramite la Bibbia le meravigliose benzioni promesse del Salmo 23 quindi sono tue solo se sei una pecore del Signore e quindi dobbiamo appropriarci di queste benzioni farle nostre percorrere il percorso che un buon pastore ha progettato per la tua vita in particolare con la certezza che lui sarà sempre al nostro fianco fidiamoci del buon pastore ascoltandolo e seguendo quindi è importante questo Salmo ha delle meravigliose promesse però la cosa più importante è capire se noi siamo del percorso del Signore se questo Salmo vale per me forse fino adesso ho detto ah ma io sono credente io sono cristiano io sono un percorso del Signore però se poi non leggo la Bibbia se non metto in pratica quello che dice il Signore non sono una pecora del Signore Gesù quindi a questo punto dobbiamo chiederci sono una pecora o sono una capra a volte può capire che magari anche come pecore ci comportiamo da capri però dobbiamo stare veramente attenti riflettere veramente se noi siamo pecore del Signore e se il Signore è il nostro pastore e veramente questo Salmo 23 ha delle meravigliose benedizioni e promesse e possono essere nostre però noi dobbiamo accertarci di essere le pecore del Signore Gesù fidiamoci del nostro buon pastore ascoltiamo seguiamolo e percorriamo il percorso che lui ci ha dato e quando ci sono quei momenti in cui diciamo ma che cosa è successo io non capisco questo non bene fidiamoci anche in quel momento perché lui sa bloccando certe situazioni nella nostra vita che sono un'abbenizione forse ora non lo comprendiamo ma come pecore del Signore Gesù lo comprenderemo più avanti quindi fidati del buon pastore ascoltalo e seguilo seguilo e che Dio ci benedita Amen